Attenzione, ma cosa succede qui allo scrigno? Potentissimo! E comunque bentornati su Fortnite! Mi raccomando iscriviti al canale e lasciate subito il like sulla fiducia di seguiva codice creatore oggi. Siamo pronti? Comunque sta per finire la stagione. In questo video lo vedrete in tempo? Credo di sì, dai! Dove siete voi che sparavate? Dove sparavate voi che siete? Prima per fare questa roba sono finito un po'. Una razzola morta. Non metto tutto quello che c'hai. C'è nessuno? Si vede che è così vuoto questa zona. Ok, uno, due. Toc, toc, toc. Toc, toc. Toc, c'è nulla. Questa mi piace. Questa mi piace. Non sto per i punti. E tu mi devo sconto. Però non va bene. C'è nessuno, eh? Ho chiesto un avventurare qua. Per affrontare qualcuno. Ecco, guarda che attenzione, c'è qualcuno. In mia mente c'ha punti, ah. Oh, ma possiamo dire che da nulla mi trovo in mezzo al casino? Attenzione. E sta roba che mira che c'ha? Oddio. Che ti sforzata? Dove che c'è? Tipo, devo sconto. Tocco. Oh, sito! E' vero. E' vero che cosa diceci. Oh la catteligna, ciao, ciaone proprio, è finita, c'è ancora un altro che è scappato. Scusa, dove devi andare? Vai ai ai, perché sono andato? Cattivo, non è. Dov'è andato? Senta lei! Oh! Le valide da Fenice! Bene, bene! Ecco qui! Quindi abbiamo killato la zia 1. Andiamo qua. Facciamo risparare. Attenzione, attenzione! Ci muore così! Vabbè! Mettiamo eh! Allora! Prima di 4! Vole patto a 6 con me! Distanzi e percorsi nuoto dobbiamo fare eh! No 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 no! No 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 no! No 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 no! Per farvi un calico morti... Dai che stanno morrendo i muschi... Dai, 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 dai... Sono cacchi vostri adesso! Che c'è? Che c'è? Il resto è il nostro corpo... Non si è l'altro... Mi piace, ma non è l'altro... Non lo so... Ci sono ieri che qui... Non lo so... No... Oh... No... 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 chi è che mi ha fatto così male? piano piano al di là di quelli lontani qua c'è qualcuno bene altri due fatto no ciò eh piano 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 maledecchia ti questo è per culo che hai fatto ah no non viene tranchiamo non male, non male questa strage allo stamirino c'è qualcuno in zona ma questo è sicuramente meglio di quello e a marzo di là dai c'è qualcuno qui? se vi sono piaciute queste kille iscrivetevi al canale mi raccomando aspetta che c'è l'ordinare tutto qua tutto qua vai a volte è un po' difficile trovare la gente dove si chiede le vicine le vicine le vicine le vicine qua qua, sento che sono qua mi sento male mi sento male che buono ma qual è la cazza? che sono qua infatti come è stato qua possibile che adesso uno sparo ecco lì qui che siete? io andavo all'altra parte va bene, va bene, c'è problema chiacchia quanto sono volontari non è ancora non è ancora non è ancora io non ti manco Ma lì in piedi? Uè ragazzi Con chi l'hai? Ops Si è sentita poco bene Guarda che sparatoria È bello di quest'arma che spara diretta Cioè non devi calcolare le vettorie o cose varie Guarda te oh Chi è che gli spara così? Ecco qua Salta salta Oh ma che barbaro Venti kill Venti kill Vai Venti Vedete come colpa Forse non ti avrete risconta di cosa stai succedendo eh ok 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 scurini 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 adesso voglio andare di qua non dovrebbe esserci più niente andiamo e ti senti qui oh oh ok ok dove sono io adesso li metto qua sopra e li chiedo a tutti e li metto a scuola 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 c'è no e per sono morti tutti vero? che sono tra oggi e 31 e ne restano 10 vediamo che te ne spacca comunque la migliore arma che si sono inventati dove si può andare adesso? dobbiamo riuscire a trovare gli altri vediamo se c'è qualcuno qua qui sono morti tutte attenzione vediamo ancora qua green 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 oh la la quindi qua penso che abbiamo fatto piazza pulita nel senso della parola andiamo qua forse potevo fare una cosa prima di andare via giusto? dov'è il compieterino? notiamo nonchè troppo se potevo andare per farlo non ci sono nelle iniziative quattro un'altra non ci sono non ci sono ma nessuno Così rimane solo uno, e sempre per quello di strada, però guarda quanto mi sto atteggiando cacchio! E che cacchio! La schedina, oh grande, ormai io ho detto quello di Ola! Ola è silenziata tra l'altro! La schedina, vai vai vai! Devi muovere perchè hai lasciato gli scudi, non è cosa positiva! No, no, no! No, 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 no! Meno pappa! Pappa anche la macchina, cacchio! Va bene, ne troverò dei altri! Ok, attenzione! Il super screen, maledetto! Attenzione! Endgame nello screen, maledetto! Mi raccomando! Sapete già cosa voglio dirvi, eh! Mi riesci a scrivere il canale e lasciare il like! Ok! Eccoli qua! Eccoli qua! Eccoli qua! Chi sei? Amici becca! Goal! Sono rimasti in tre! Eccoli qua! Praticamente non poteva essere un bot che seguiva un bot! Chi lo sa! Eccone un altro! Questo è giù! Sfortunatino, eh! Cazzo! Sono riuscito piccamente... Uh, cosa mi dai? Di bene o meglio! In testa ponna mentre cadevo! Un colpo che se neanche ci... No, aspetta, cos'è che ho rilasciato? Quindi, anche se ci riprovo riesco, ci riuscirò mai! Allora! E dal mio fondo, vorrei fare una roba di sensazione questo finale! Perché è molto comoda! Adesso qua! Salto là, eccoti qua, attenzione che anche lui ha lo saniferozzo, chi sei? Com'era che è sceso, dove c'è? Cattivo uomo, eccoti qua, che cos'è sto? Ah c'è una specie di protezione qua, non mi vede? Ok, preso, preso, è pronto. Addio, wow, venta shot, ma ok, c'è però, wind, musica. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi perché non vi ho lasciato il like, e se il vacco dice che oggi ci sono tutti belloni. Ciao.